secondo lei il discorso della promozione diretta è di fatto chiuso? io non voglio più parlare di promozione perché da quando parliamo di promozione abbiamo iniziato per problemi quindi vediamo la prossima partita che con l'ascola che è già una partita impegnativa quella e ci proviamo anche se non ho dubbi che visto che siamo a Berrimo che l'Atalanta sia con un piede in Serie A anche se adesso oggi magari non lo era ma tra poco arriva la primavera e qualche problemino non so chi ma potrebbe anche provarlo sperando che non sia il e avete fatto anche un gran favore all'Atalanta oltre che a voi stessi no? Sì noi siamo contenti anche perché comunque diciamo così guardiamo l'Atalanta come secondo risultato perché speriamo che vinca e oggi avendo battuto il Novara sicuramente mi ha fatto un piacere a loro ma anche un piacere a noi ma anche un piacere a loro. Siccome ho ricevuto un messaggio attraverso la stampa per quanto riguarda il discorso Atalanta messaggio ricevuto e diciamo abbiamo giustamente risposto come è giusto che facciano quelli che abitano nello stesso palazzo. Perfetto hai fatto un grande favore grazie grazie Emiliano Mondonico. ci siamo fatti anche un grande favore